Musica Dopo il selfie di Rito, aspetta che dobbiamo farlo ancora Eccolo qua, con il servizio campo abbiamo uno dei protagonisti della partita stasera, Andrea Olivati Stasera, i giocatori hanno giocato meno, nel tuo caso è stato anche un po' il pizzico di sfortuna con l'infortunio Stasera avete giocato tutti bene, ci siamo divertiti Può essere anche un stimolo per lavorare bene in vista del prossimo girone Che si aprirà con una partita già delicata contro Rottona Questo sicuramente, sono sei mesi quasi che lavoriamo bene Per occasioni come questa, in cui possiamo dimostrare qualcosa, anche noi che giochiamo un po' meno di solito Un po' per sfortuna ed infortuni, come dicevi te, un po' per fortuna siamo andati bene Peccato l'ultimo mezzo set che ci siamo lasciati sfuggire, però abbiamo fatto sicuramente un buon risultato Serve anche, penso, come stimolo per tutti per avere delle carte in più da giocare nel secondo girone Quindi si giocherà la prima Rottona poi in casa, quindi questo bellissimo pubblico che c'era stasera lo invitiamo anche per le partite Pulsalvezza Perché ci saranno punti pesanti in palio Certamente, saranno sempre più importanti le partite dalla prima all'ultima del girone Quindi serve sicuramente il pubblico per caricarci Grazie mille Olli Grazie a te